L'ingresso della scuola è impraticabile quando piove. La denuncia arriva dalle mamme degli alunni dell'Istituto Giampietro Romano di Torre del Greco. Una problematica che si è riproposta in questi giorni di maltempo. Ascoltiamo la testimonianza diretta di una mamma che si fa portavoce dei disagi vissuti da tutti i genitori. L'ingresso è impedito quando piove perché si forma una pozzanghera talmente grande che i bambini sono costretti purtroppo a passare in questa pozzanghera bagnandosi ovviamente piedi, calzini, scarpe e noi siamo costretti ad andare a casa e a portare il cambio. Però non tutte le mamme sono così fortunate da poter andare a casa e portare questo cambio. C'è chi lavora e chi non può tornare a casa. I bambini rimangono 4-5 ore con i piedi bagnati rischiando poi che il giorno dopo si svegliano con raffreddore, tosse e in questo tempo ancora di pandemia sappiamo a che cosa andiamo incontro. Tamponi, restare a casa forzatamente perché poi noi abbiamo firmato un patto di corresponsabilità con la scuola in cui ci impegniamo a non mandare i bambini a scuola nel momento in cui c'è anche un semplice raffreddore. Non manca la richiesta delle mamme all'amministrazione comunale. La nostra richiesta è molto semplice, chiediamo al comune che intervenga il più presto possibile perché ci apprestiamo ad andare verso l'inverno e quindi le piogge saranno all'ordine del giorno.